Eccoci qui, cari amici di Viena Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti qui quando si cammina nei boschi, bisogna sempre stare attenti ai pantani, agli impasti di fango allora, oggi voglio parlarvi di un apparente paradosso ci sono delle persone in Irlanda che sono, pur vivendo in un'isola tutta verde, tutta rilassante, senza grossi casini riescono a condurre una vita altamente stressata diciamo come fanno, sono pazzi, sono venuti lì apposta per scappare allo stress dell'Italia con tutti i suoi casini eh, qui sto, scusate, devo stare un attimo attento che sono in un bel mezzo di cicciac di pantano allora, quindi è possibile perché queste persone non hanno trovato né hobby né hanno trovato posti dove andare per ricaricarsi questi posti, io ho tanti amici li ho portati a conoscere questi posti che sono proprio attaccati a Cork e tutti fanno, ah ma non lo sapevo, non l'ho visto sulla mappa, non le ho trovati e beh, certe cose ovviamente non è che tutti quanti le scrivono perché la gente del posto vuole un po' tenersi dei segreti però è importantissimo c'è gente che passa tutta la santa giornata sempre attaccata al computer a telefono magari in piccoli appartamentini, monolocali, studio quindi una vita sempre diciamo un pochino asfittica se vogliamo mentre invece qui questa è un posto proprio con grandi spazi con aria pulitissima eh, chiaramente se mi mettete qua in campagna è pulitissima proprio un'aria fine, un'aria leggera quindi è proprio un paradosso che le gente vengono qui non si informano, non hanno così la curiosità di vedere questi posti naturali e poi passano la vita lamentandosi di tante cose poi questa è la stagione invernale quindi specialmente questa stagione bisogna stare attentissimi proprio per cercare di prendere luce, aria fresca perché se no tra caloriferi che vanno tra il periodo di lavoro che può essere pure più intenso nei mesi invernali quindi bisogna starci attento ci sono questi bei posticini qui a pochi si può arrivare anche a piedi da casa mia qua volendo non ci vuole granché e poi c'è certa gente che arriva qui non ha neanche un mezzo di trasporto suo non ha né l'abbonamento alla bici pubblica cioè quelle con la tesserina a noleggio né una bicicletta una bicicletta qua ragazzi non è che la pagate quando l'avete pagata 100 o 150 euro dipende come la volete insomma siete a posto prendete anche un bel modellino quindi poi se volete andare su di livello potete spendere quanto volete ovviamente e poi ricordiamo che per le biciclette c'è anche un incentivo statale in cui se la prendete nuova vi danno il 50% di tasse sulle tasse del lavoro indietro quindi è imperativo ragazzi mettersi qua e non fare come certa gente che viene in Irlanda e sta comunque stressata è una roba un po' da evitare specialmente quando sono giornate che il tempo è decente però molte persone fanno eh beh non so nemmeno dove andare abitano lì magari il Cork Centro quelle due strade in croce con le solite facce i soliti negozi stesso magari per chi abita a Dublino Centro alcune persone magari non hanno cognizioni di dove andare se non i classici posti i Phoenix Park o i posti dove si si arriva con il treno quindi ogni volta che uno vuole fare un giretto dice no troppo lontano e lascia perdere quindi mi raccomando quando siete sull'isola verde approfittatene e mettetevi in condizioni anche di magari scegliere casa che sia abbastanza strategica che non ci voglia una vita per arrivare nei posti di ricarica bene piccolo pensiero noi ragazzi ci vediamo in uno dei prossimi video a presto ciao